Da questa parte è un punto d'attacco in modo che si possa anche arrivare in barca. Ecco qui già la scaletta è pronta per salire e qui sarà punto di ristoro con tavoli ben attrezzato e una pulitura del sottobosco. Ci sono delle belle piante di legge, una zona sicuramente che merita perché verrà spolitata. Di fronte a noi l'isolotto con il Borrocos e San Sebastiano. Poi essendo la strada abbastanza praticabile quindi si è tutta percorribile e quindi si può anche arrivare con la macchina. La vista panoramica eccezionale, eccezionale. Come rendere veramente i posti fruibili. Qui ci sono i tavoli, i posti a sedere sono sei, quindi accoglieranno quanti vorranno venire qui per un picnic. Diventerà un'area di picnic vista lago. Siamo a Isili di fronte a noi, lo stagno, il lago Isborrocos. Grazie. 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 Grazie.